Musica Benvenuti alla prima puntata di Campagna Amica Un nuovo appuntamento sulla nostra emittente a partire da domenica prossima Con Campagna Amica, Coldiretti Belluno porta, nelle nostre case, il mondo agricolo bellunese Il mondo agricolo è sempre più al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica I prodotti agricoli sono diventati oggi un brand importante per quanto riguarda la valorizzazione del territorio Abbiamo deciso, come Coldiretti, di approcciare a questo tema E quindi arrivare a una trasmissione televisiva che parlasse ai consumatori Ma non solo, anche ai nostri soci imprenditori agricoli Per trattare i temi che molto spesso ci vengono chiesti Temi che saranno tecnici, che riguarderanno le coltivazioni, le tipologie, le varietà Ma che in alcune rubriche tratteranno invece proprio la materia prima agricola Il prodotto agricolo di questo territorio e le modalità con le quali vengono prodotti Andremo nei mercati, verificheremo quali sono i prodotti della stagione, del momento, come coltivarli Cercheremo di dare la corretta indicazione per quanto riguarda la stagionalità Magari anche la lettura dell'etichetta e la provenienza della materia prima con cui viene prodotto un determinato prodotto Oggi le sfide riguardano effettivamente la diversificazione dei prodotti La loro caratterizzazione all'interno e la loro valorizzazione anche attraverso gli ambiti turistici Della ristorazione e del settore alberghiero Campagna Amica sarà anche uno strumento per parlare agli associati e agli agricoltori in genere Cercheremo di dare anche delle risposte ai nostri soci imprenditori Quindi utilizzando il canale televisivo come uno strumento di comunicazione Di quelle che sono le scadenze ma di quelle che sono anche le opportunità che questo territorio può offrire A livello proprio di aiuti allo sviluppo delle imprese, delle imprese giovani, delle imprese delle donne La diversificazione delle attività e di tutte quelle attività che sono proprie dell'azienda agricola E che possono aiutare a fare reddito all'imprenditore agricolo Appuntamento dunque domenica alle 13 e alle 18.55 Con repliche lunedì alle 21.05 Martedì alle 18 Venerdì alle 14 E sabato alle 11